... ... ... Eliminiamo le guardie prima che diano l'allarme. Contatto. Fermiamolo prima che suoni il corno. Sì, 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 sì. Puoi parlare, ora beh. Credo ci abbiano visto. Sei sicuro? Arriva! Rianimami! Servirebbe... una mano. E vai! Rianimami! 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 Molizione finita Molizione finita E arrivano altri Questo non lo perdi Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Granata Non c'è nulla 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 Allora ti muovi Beh, una mano Non c'è nulla Non c'è nulla Avete